Ciao da Radiovaio, questa sera abbiamo un pezzo del Rouge, come sentite, polvere, versione live, è un periodo in cui sto ascoltando molti pezzi del Rouge, ce ne sono alcuni che sono veramente carini, invece che le trasmissioni sugli UFO, dovrebbe fare dei dischi, questa era gratis, un saluto speciale questa sera all'Andre, che è uno stimatore delle nostre Clipper, grazie Andre, lo sai che ti voglio bene nell'anno, guarda qua che c'è la tua bestia che sta rinascendo, guarda come cippa, dai che stasera te lo porto, questa sera torniamo all'Alcatraz, più carichi che mai, grazie alla serata che ci avete regalato mercoledì, è stata veramente bellissima, quindi Mimmo grazie, stiamo arrivando, più carichi ancora dell'altra sera, a dopo, ciao, quanti misteri, polvere, basta va, ok, ok, basta, ciao